Dal 1 gennaio scatta il reddito di inclusione. In Italia le famiglie interessate sono 490.000. Si tratta di una misura che sostituisce l'assegno di disoccupazione e il sostegno all'inclusione attiva, per il quale nelle marche erano state presentate oltre 3.600 domande, ma meno di un terzo era stato accolto. Le richieste di assistenza per accedere al cosiddetto REI si concentrano principalmente nei CAF. Alfredo Ranavola ha fatto un giro nei CAF di Ancona. Vediamo. In grosso modo quante persone sono arrivate qui? Nei primi 3-4 giorni una media di 20-25 ogni mezza giornata, quindi un paio di 100 persone per adesso. Prima di tutto corre avere l'ISE, l'indicatore di situazione economica equivalente, calcolato e non deve essere superiore a 6.000 euro. Chi già l'ha fatto certificare alla CGL ci dicono che sono stati tanti nei mesi scorsi per accedere ad altre agevolazioni, può direttamente inoltrare la domanda, ma sono gli altri quelli che devono ottenerlo a rivolgersi in questi giorni ai centri di assistenza fiscale. Come CISL ci siamo messi a disposizione piena, aprendo anche tutte le possibilità degli operatori, affinché rispondiamo a questa esigenza un po' urgente di questo reddito di inclusione e poi diamo una prima informazione. Anche da noi sono arrivate diverse richieste, noi abbiamo due sportelli, il CAF nello specifico si occuperà della parte della stesura dell'ISE e il punto famiglia delle AGL invece aiuterà le persone, le famiglie ad avere tutte le informazioni necessarie per poter presentare la domanda a chi si devono rivolgere, cosa devono fare. Altri requisiti possono fare richiesta a cittadini dell'Unione o familiari titolari del permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo, residenti in Italia in via continuativa da almeno due anni al momento di presentare la domanda. Con patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a 20.000 euro, patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuti di 2.000 euro per ogni componente, il nucleo familiare. L'importo dell'assegno mensile che scatterà dal 1 gennaio va dai 187,50 euro se composto da una sola persona fino ai 485,41 dalle 5 persone in su. Anche una volta ottenuto non è per sempre 18 mesi rinnovabili per altri 12 ma con in mezzo una pausa di 6.